Se non fosse tornata con lui l'avrebbe fatta saltare in aria, così aveva dichiarato e letteralmente stava agendo un 27enne barese arrestato dai carabinieri a Biceglie con le accuse di atti persecutori nei confronti della ex compagna, danneggiamento a seguito di incendio e tentato omicidio. L'arresto è stato possibile grazie alla denuncia presentata dalla vittima, una donna bicegliese di 44 anni. Dopo la denuncia da parte della donna sono state condotte comunque nell'immediato indagini volta all'identificazione della persona che aveva compiuto il primo atto di incendio del pianerottolo della vittima e grazie agli elementi che sono stati acquisiti nel corso dell'attività ci hanno permesso di arrestare il soggetto nel tentativo del secondo incendio. Secondo quanto riportato, il 27enne, che non aveva precedenti penali, non solo avrebbe più volte minacciato di uccidere la sua ex ma avrebbe commesso per due volte degli attentati anche ai danni dei suoi due figli minori e del padre, un uomo anziano che viveva nella stessa abitazione. In una occasione avrebbe provocato un'esplosione ponendo del materiale infiammabile dinanzi alla porta della casa in cui risiedeva il nucleo familiare della vittima. Resovano grazie alla tempestiva collocazione da parte della donna presso una struttura protetta. Ad aver avuto la peggio è stato l'anziano che ha inalato i fumi tossici ed è stato ricoverato. Denunciare è il primo atto fondamentale. Invito la cittadinanza, qualora ve ne fosse ovviamente il bisogno, di denunciare immediatamente all'autorità competenti eventuali reati. Il 27enne al momento è rinchiuso nel carcere di Trani, mentre la 44enne e i suoi bambini sono in una struttura protetta.